Le ultime dichiarazioni del pentito Ercone Penna danno il colpo di grazia al clan mesagnese dei Campana. La squadra mobile di Brindisi, diretta dal vicequestore Francesco Barnaba, il commissariato di Mesagna e guidato dalla vicequestore aggiunto Sabrina Manzoni, hanno assicurato alla giustizia Antonio Campana, fratello di Francesco e Sandro, già detenuti per associazione delinquere di stampo mafioso, il primo ritenuto tra i capi della Sacra Colonna Unita Brindisina. Si chiama Campana e Silenti, l'operazione di polizia che ha portato all'arresto del mesagnese accusato dell'omicidio di Massimo delle Grottaglie è venuto nel 2001. La restrizione riguarda anche una seconda persona, Carlo Gagliardi, già detenuta, a lui l'arresto è stato notificato in carcere. È stata un'indagine lunga ma che è riuscita a fare luce sull'omicidio dopo dieci anni. Il corpo delle Grottaglie fu ritrovato il 16 dicembre 2001 nelle campagne Leccesi tra Presicce e Lido Marini. L'uomo era scomparso tra il 22 e il 23 novembre dello stesso anno e risultava tra i latitanti dell'operazione mediana. Delle Grottaglie era tra gli altri uno dei componenti della clan Campana, ormai non più gradito. Fu la molle dei giorni successivi all'operazione mediana a dare la notizia della scomparsa dell'uomo. Antonio Campana, in carcere dal 2003 in seguito all'operazione Rintocco, era stato tra l'altro scarcerato circa un mese e mezzo fa. Campana e Gagliardi ora devono rispondere al reato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione oltre al 416 bis. E' stato un lavoro complesso ma alla base della quale non vi sono sicuramente solo le dichiarazioni dei collaboratori ma vi è una serie di attività investigativa già svolta che poi unita alle dichiarazioni dei collaboratori che hanno fatto una forma di collante all'attività già svolta, hanno permesso poi l'emissione delle ordinanze di custodia carriera. Per ultimo quello di Ercole Penna, quanto è stato necessario per raggiungere questa soluzione? Le dichiarazioni di Ercole Penna sono state importanti, un po' come lo è tutta la sua collaborazione. Il Penna ha fornito anche su questo episodio un quadro abbastanza preciso che però, come ho sottolineato prima, ha bisognevole di un riscontro investigativo ulteriore per poi arrivare a delle catture.